Ciao ragazzi, benvenuti, ciao a tutti, di nuovo qui a New York, New York continua a essere soleggiata, è molto calda, devo dire fin troppo anche, ieri sono andato in giro e vi assicuro che verso le 11 e mezza, mezzogiorno c'era un sole che veramente picchiava forte. Ciao ragazzi, intanto tutti quelli che sono anche in chat, vi vedo, Ajei, Ettore, Gruca, Moro, Fetentella, insomma tutti quanti, vedo che insomma siete degli seguaci proprio affezionati. Va bene, allora, come vi avevo già preannunciato un po' sul forum, oggi sarà una puntata molto corta, perché sono andato in una zona che secondo me in questo momento non sta offrendo molto, ma c'è un motivo, la zona è Tribeca, è scritto Tribeca, Tribeca sta per Triangle Tree, Below, B, Canal Street, K, quindi triangolo sotto Canal Street. Purtroppo questa è una zona che dopo l'11 settembre è stata quella che è più colpita, nel senso che molte persone che erano qui se ne sono andate, sono andate un po' in discesa questa zona, e stanno cercando di ridarle vita anche con il Tribeca Film Festival, vabbè venire ho aperto un ristorante, comunque io l'ho vista ancora un pochino, diciamo che in tutta New York, in tutta Manhattan almeno, ecco Tribeca secondo me è una zona così meno forse molto appetibile da un punto di vista strettamente turistico. Comunque ci sono alcune cose che vanno segnalate e che vi farò vedere. Allora, partiamo subito con il filmato di ieri, parto da un negozio particolare che, vabbè, questo non c'entra molto con Tribeca, ma mi ha attirato, ed è questo. Qui vedete, è un negozio che fa riversamenti da qualsiasi tipo di supporto a DVD, la cosa che mi ha impressionato è che ha macchine che sono veramente antidiluviane, guardate queste qui sono macchine da un pollice che non si usano più nemmeno nelle TV più scalcinate, però insomma le hanno tutte, in modo che loro possano fare questi riversamenti da qualsiasi tipo di supporto, poi dentro c'hanno un sacco di videoregistrattori, credo che facciano anche riparazioni, questa pila di beta, insomma era una cosa un po' curiosa, mi aveva incuriosito quindi l'ho fatta vedere. Ecco, qui siamo a zona Church Street e adesso qui comincerò a farvi vedere, ecco qui ho visto un negozio di scarpe, prezzi assolutamente bassi, guardate, sono rimasto incolpito anche da questo, l'ho fatto vedere perché come a 39 dollari un paio di scarpe, secondo me non si trovano più neanche in un mercato italiano, insomma, 39 dollari, pensate saranno, che ne sono 28 euro, nel cambio attuale 29 euro, non so, 30 euro, penso che insomma, vedete ecco anche le Clarks, i prezzi erano assolutamente 49 dollari un paio di Clarks, insomma, mi sembravano molto, molto buono insomma. Ecco, e qui arriviamo, qui siamo in Duan e Elk Street, arriviamo in questo memorial, allora dovete sapere che nella primavera del 1991, durante dei lavori di costruzione, mentre facciamo degli scavi, furono trovati 25 piedi sotto il livello della strada, delle casse di legno contenenti di resti umani. Poi hanno fatto una ricerca e questa ricerca storica ha rivelato che questa era un'antica area di sepoltura per gli schiavi afroamericani, questo nei primi anni del 1700 e quindi nel 1993 questo piccolo pezzo di terra è stato dichiarato un sito storico ed è sotto la protezione dei parchi nazionali americani, infatti lì c'è un ranger che mi ha anche dato la brochure per questo posto, hanno fatto questo memorial, mi ricordo appunto di tutti gli afroamericani che hanno dato moltissimo all'America ma che come sappiamo purtroppo sono sempre stati trattati in maniera indecente. questo è un memorial fatto tutto di marmo, ecco qui c'è appunto il ranger che spiega a chi vuole tutta la storia di questo posto, ecco per tutti quelli che sono persi, per tutti quelli che hanno rubato, per tutti quelli che sono stati lasciati indietro e per tutti quelli che non sono mai stati dimenticati, ecco quella scritta recitava questo. intanto qui siamo sempre dietro, avete visto un pezzo di winter garden? ecco intanto qui ci sono anche qui dei bei palazzi comunque che vi ho ripreso in modo da mostrarvi, diciamo che questo è un po' diciamo una parte sotto So, qui appena si va un po' su si arriva a So e quindi con tutto quello che riguarda appunto So. qui siamo sulla West Broadway, ecco qui siamo Hudson Street e Duan e qui c'è questo parco che è tra i più antichi di New York e questa era una parte originale di una fattoria olandese del 1600, pensate che fu poi acquistata dal Duca di York e che poi la consegnò la Trinity Church, la Trinity Church era proprietà di un sacco di proprietà in Lower Mountain e la chiesa appunto la Trinity Church, vedete questo parco, la città di New York nel 1797, pensate un po' per la enorme cifra di 5 dollari. Tutte cose che mi sono state segnalate appunto da Forgotten New York questo, ecco anche qui ci sono queste case un po' particolari con scale antincendio fuori, queste brick stone houses, alcune insomma, non tutte ma... Ecco qui invece siamo su Hudson e Thomas Street, curiosità, e c'è questa bussola per terra con la freccia che indica il nord, questo è stato piazzato lì quando è stato costruito questo edificio in mattoni e hanno pensato di mettere questa bussola, messa nel marciapiede, bussola, è una cosa fissa, un ago fisso che però indica il nord. E qui invece arriviamo ad un altro posto particolare, questo si chiama The Strange Medallion di Harrison Street, questo si trova tra Harrison Street e Green Street, faceva parte di una costruzione del 1930, questo fregio, una costruzione che era affacciata sulla highway west side, che è praticamente la strada che costeggia, è un highway che costeggia Larson River, il palazzo fu poi dimolito, ma il fregio appunto fu preservato ed è stato messo lì, così a futura memoria. Ecco, vi dicevo che la strada che costeggia Larson River è proprio un'autostrada, è considerata un'autostrada sulla mappa stradale americana, quindi sembra che sia una strada larga, in realtà è proprio un'autostrada, con passaggi pedonali e tutto quanto. E qui arriviamo invece in Collister Street, qui la cosa particolare c'è questa scultura della testa di un cane che è circondato dalle parole American Express Co, che sta per Company, questo perché, vedete, questo qui era uno degli stabili dell'American Express nella zona di Tribeca, che era un po' il quartier generale dell'American Express. E quindi il palazzo non è più dell'American Express, ma quella testa è rimasta. E qui ho inquadrato questo palazzo, perché questo è il vecchio palazzo della TNT, ma lì all'ultimo piano ce la sederai di New York. Una curiosità. Ecco, e qui arriviamo ai pianoforti che Luca mi ha chiesto e che vi sto mostrando. Sapete che, anche come segnalato sul sito, New City Site, dalla redazione, la città di New York ha messo a disposizione dei new yorkesi questi pianoforti in parchi. E chi vuole va lì e li suona, intrattiene il pubblico. E addirittura hanno messo delle specie di cellofan che, se dovesse provare, questi pianoforti si possono coprire in modo da non essere rovinati. Quindi mi è sembrato così carino farvi apprezzare anche questa cosa, vedete. Ecco, queste sono proprio le classiche cose new yorkesi. Secondo me solo in New York ci hanno queste idee qua. Vabbè, poi qui sono andato avanti e adesso vedrete un'altra cosa particolare tra un po'. Ecco, qui c'era un gruppo di rock che suonava in mezzo alla strada. Altra cosa assolutamente new yorkese, ne faccio sentire un po'. Ecco, questo è proprio... Classico di New York. at ecco, che... Ci staggia un po' di quali che sono le passioni assolutamente new, sull'ai degli altri animatori. Ci staggia un po' di cui c'è 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 un po' di qui. Ecco qui questi ragazzi penso che abbiano fatto anche dei cd così un po' amatoriali e li hanno messi lì, la gente che passa lì lascia un'offerta e si prende il cd oppure può lasciare anche solo un'offerta senza prendere nulla Ecco qui siamo in Spring Street e poi niente poi vabbè poi mi sono andato via e adesso vi documenterò altre cose, qui siamo su West Broadway e Spring Street come vedete e qui c'è un, mi sembra un Emporio Armani esatto, ci stiamo andando verso zona più solo che Tribeca in realtà, ecco qui siamo su West Spring Street, ecco c'è un mercatino, molto spesso a New York si incontrano questi mercatini, mercatini molto piccoli anche, sono fatti solo di qualche bancarella che appunto vendono magliette o bigiotteria o cose di questo senso, un po' dappertutto si trovano, quindi se camminate per strada tranquilli che se volete comprare qualcosa assolutamente qualche idea vi viene, soprattutto in questa zona Ecco e qui arriviamo in un'altra parte, qui siamo più verso Soho e qui c'è una particolarità che è il cosiddetto Sidewalk Subway Map, vedete, qui hanno incastonato per terra questa mappa della metropolitana, questa è stata creata nel 1986 da un architetto belga e di sera le fermate si illuminano, vedete quei cerchietti si illuminano, è del colore della metropolitana la Subway, e questo progetto ha vinto il primo premio della commissione della City Art come miglior appunto progetto artistico dell'anno, ecco qui avevo questa idea di fare questa mappa della metropolitana praticamente inserendo nel selciato queste righe di acciaio e con queste lampadine che si illuminano di sera, questo è Louis Vuitton Ecco, questa casa invece è dipinta, quelle finestre che vedete non sono vere ma tutta la facciata è tutta dipinta Ecco, qui arriviamo all'ultima cosa che devo farvi vedere di Tribeca che sono queste case antiche, queste sono state fatte nel distretto storico nel 1820, ne erano state fatte 72 di queste case ma sono sopravvissute solo queste Qui siamo tra King Street e la Sesta Avenue Ecco, e niente, qui praticamente finisce il giro che ho fatto ieri, vi ho detto purtroppo ragazzi ieri Tribeca, insomma anche qui ho camminato tantissimo, però diciamo che gli spunti di interesse non sono stati moltissimi, per cui quelli che ho trovato ve li ho mostrati Poi non vi lascio così, ieri sera siamo andati fuori a mangiare con Mary Libellula e siamo andati di nuovo in quel posto del quale avevo già parlato che si trova sotto Barnes & Noble e si trova sulla terza, lo dico finalmente perché l'altra volta ho sbagliato, si trova sulla terza Avenue con l'incrocio con la 54esima strada, Mary sostiene che la 53esima, sono andato a controllare stamattina su Google Map, 54esima, quindi terza Avenue e 54esima strada sotto Barnes & Noble che è una libreria, c'è questo ristorante bar, molto carino, dove fanno anche musica dal vivo, poi lo vedrete, voi andate lì, chiedete il tavolo, intanto che il tavolo si libera c'è il bar, potete andare a bere qualcosa e poi insomma quando il tavolo si libera vengono loro a chiamarvi e trasferiscono il conto del bar sul conto del ristorante, si paga poco, diciamo che è un posto da hamburger, insomma 14 dollari in hamburger, ecco, le cifre sono queste, comunque adesso ve lo mostro così, lo vedete. Ha visto la puntata? Qui stavo chiacchierando con me. Questo è il bar, anche questo ha prezzi molto accessibili. Allora, il nome non lo so. Intanto vabbè, sto chiacchierando con Mary, però insomma vi faccio vedere un po' all'interno, perché era un po' buio, però insomma qualcosa si riesce a capire, secondo me. Allora Mary, sentiamo un po', raccontami un po'. Questo posto... Aspetta, aspetta, eh, dai, vai, vai. Questo posto si chiama Houston, è la catena Houston. Una perché è venuto mai migliore, quello che si trova sulla 53, una strada e la terza. Ok. È venuto sotto basso il bar. Sotto basso il bar. Non sai notare anche perché uno va al bar e beve qualcosa prima di mangiare. E allora è più tempo che io sono in tavola. Ok, poi, raccontami la tua New York. Allora, la New York la conoscono tutti, la scrivo sul blog tutti i giorni. Tutto bene, sì. Tutto bene. Va bene, va bene. Va bene, allora salutiamo tutti quelli del forum. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. qui eravamo intorno alle 11, 11 e mezza di sera per cui insomma c'era anche un bel po' di pienotto di gente ecco e poi ho visto queste moto e non potevo esimermi da mostrarle chopper guardate il casco di questo ecco e qui si conclude la giornata di ieri bene ragazzi mi rendo conto che oggi è stata un po' corta come vi avevo detto però vi ripeto purtroppo la zona che ho battuto non offriva molto di più avrei potuto farvi vedere So ma ve l'avevo già fatta vedere l'anno scorso per cui non mi è sembrato il caso se volete vedere So andate tranquillamente sulle registrazioni dell'anno scorso la vedete non c'è nulla di più nulla di meno insomma è quella oggi intenzione andare in un'altra parte invece che credo sarà un po' più ricca per cui domani probabilmente la puntata sarà un po' più ricca io vi ringrazio come al solito di essere stati con me anche oggi vi do appuntamento naturalmente a domani e vi saluto e vi lascio come al solito con il grande e solito ciao grazie a tutti grazie a tutti